Sì, sì, abbiamo giocato bene, meglio che una settimana fa, Busto è una squadra forte con Alta, Muro, Muro di Fe, non sono una squadra forte, ma abbiamo preparato la partita come sempre e abbiamo fatto meglio, il primo set abbiamo giocato a 100%, 100% e vinto ora difficili, ma nel secondo set, mi spiace, per 3-1, è sempre meglio 2-2, 2 pari dopo un altro set, ma mi spiace. L'ultima partita contro Club Italia, a casa, e a casa giochiamo sempre meglio, perché per noi giochiamo a casa, è top, Club Italia è una squadra, forse è buona, e quando lei è in forma è sempre difficile per noi. Ok, ma proviamo, prepariamo la partita come sempre, abbiamo tempo, sono contenta perché abbiamo già giocato un po' meglio in organizzazione oggi, ma nel quarto set era difficile, Muro di Fe, noi non abbiamo fatto così bene il Muro, era difficile il Muro di Fe, ma loro hanno cambiato un po' il suo gioco e sì, tra uno per loro.